ciao a tutti ragazzi siamo ritornati alla vittoria al san nicola i tre punti l'abbiamo presi una prestazione non super perché non è che abbiamo rivisto il bari che abbiamo visto l'andata quello no però ci sono state delle cose positive il solito d'enrico famoso gol annullato assurdo l'importante che che l'abbiamo vinta perché insomma se non stavamo in vantaggio e non avere quel gol che va davvero amare e invece per fortuna qualche minuto di sofferenza ma niente di che perché alla fine loro non è che hanno avuto che occasione cioè forse avranno fatto un tiro in porta tutti i 90 minuti no ovviamente le solite cose specialmente primo tempo non si riusciva a concludere niente passaggi sbagliati in avanti non lo so c'è poi pure galano stesso cioè io non dico nulla a galano ci mancherebbe ma non è ruolo su non deve fare quel ruolo galano deve essere laterale purtroppo si ripete sempre la stessa cosa che manca botta finalmente per il derby lo dovremo avere perché ieri non abbiamo avuto per il discorso di squalifica se no sarebbe partito subito titolare e sono convinto che con il rientro di botta cambieranno molte cose perché comunque quel ruolo fino ad ora è stato sballato da tutti purtroppo perché uno nasce trequartista adattare si fino a un certo punto ma non è che puoi fare ciò che ha fatto lui assolutamente cioè questo poi si vede anche anche in altra squadra e capita spesso che il trequartista quello è ti capito qualche altro giocatore che viene adattato in quel ruolo non dà mai gli stessi risultati che ti dà il vero trequartista il catanzaro appareggiato con il potenza questo anche per dire agli altri è perso col campo basso col messino e tutto è così catanzaro pure buona squadra però intanto ha fatto 0 a 0 quindi questo cosa significa il campionato è difficile e continua ancora a ripeter che adesso è ancora di più quando tu combatti con queste squadre chiamiamo le squadrette tra virgolette e questi devono fare punti per salvarsi non guardano in faccia a nessuno danno veramente il sangue quindi è amare potuto l'avellino pure appareggiata beh che poi latina è già da un bel po che sta rompendo cioè che si è ripresa è partita male nel suo campionato ma poi ha dato filo da torcere a tanti sabato a foggia ovviamente era scontatissima la trasferta vietata tipo si baresi vabbè di questo c'è un argomento che si può parlare all'infinito che mi viene solamente nervoso a sentire queste cose nel 2022 non fa niente andranno i ragazzi e sabato ci portiamo un'altra vittoria e occhio al catanzaro che si becca l'altro pareggio ricordatevi così ciò che vi sto dicendo